9 novembre 1970 muore Charles de Gaulle, generale francese, presidente della Quinta Repubblica per dieci anni. Il presidente della Repubblica francese, Pompidou, annuncia alla televisione «Il generale de Gaulle è morto, la Francia è rimasta vedova». «È morto l'ultimo gigante», commenta il cancelliere tedesco Willy Brandt. «È morto l'ultimo gigante».